Oggi, festa di Pentecoste, viene pubblicato il mio messaggio per la prossima giornata missionaria mondiale, che si celebra ogni anno nel mese d'ottobre. Il tema è la missione al cuore della fede cristiana. Lo Spirito Santo sostenga la missione della Chiesa nel mondo intero e dia forza a tutti i missionari e le missionarie del Vangelo. Lo Spirito doni pace al mondo intero, guarisca le piave della guerra e del terrorismo che anche questa notte a Londra ha colpito civili innocenti. Preghiamo per le vittime e i familiari.